Signore e signori, amici di mentisommerse.it, un cordiale benvenuto da Corrado Parlati. Siamo in compagnia di Carlo Babando. Buonasera Carlo. Ciao Corrado. Allora Carlo, partiamo proprio da Miss Black America, i tuoi percorsi sull'identità sonora afroamericana. Come nasce questo libro? Il libro nasce perché io faccio l'insegnante, quindi la mattina insegno italiano e storia a scuola. Il pomeriggio lavoro in un negozio di dischi e da tanti anni mi occupo di musica e cultura afroamericana nascrivendo per delle riviste, collaborando con la radio e la televisione. E a un certo punto mi sono reso conto che io, insomma, da bianco italiano, così appassionato di cultura afroamericana avevo un sacco di domande, un sacco di dubbi su cosa e quanto avrei dovuto immergermi in questa cultura e come soprattutto raccontarla senza la paura né di prendere parola al posto di qualcuno né di commettere degli errori di giudizio. Quindi ho voluto in qualche modo attraverso Miss Black America raccontare, non nella storia della musica afroamericana, ma certi interrogativi che mi facevo e che forse si fa alla cultura occidentale e soprattutto quella bianca, a proposito della musica, del cinema e della cultura afroamericana in generale. Fin dai tempi di Curtis Mayfield, che è proprio da Miss Black America che è tratto il titolo del tuo libro, fino a Kendrick Lamar, la musica afroamericana si è fatta portavoce della lotta per i diritti degli afroamericani. Quali sono state, secondo te, le canzoni che hanno giocato il ruolo più importante in questo senso e soprattutto qual è il ruolo della musica oggi nel mondo della comunità afroamericana? Il ruolo della musica è centrale da sempre, lo è stato in maniera diversa davvero dagli albori, da quando è nata e forse ogni sua generazione, ogni epoca ha avuto il suo inno. Non a caso io ho chiamato il libro Miss Black America come una canzone di Curtis Mayfield e ho terminato questo viaggio anche nella playlist che c'è su Spotify con Move On Up, che è un altro pezzo di Curtis Mayfield che è stato appunto uno di quegli inni. Quando ti dico ogni generazione ha avuto il suo perché penso che anche King Kunta di Kendrick Lamar è stato un inno, ovviamente lo è stato, sono stati diversi brani di Nina Simone, di Aretha Franklin, di Otis Redding, andando anche al di là poi dei vari linguaggi musicali dei vari generi e questo è importante perché ha tracciato un solco profondo non solo per la comunità afroamericana, ma si è riverberato anche al di là dell'oceano atlantico, arrivando anche dalle nostre parti fino appunto a diventare la colonna sonora per esempio di Black Lives Matter e di una serie di progetti legati all'attivismo afroamericano che si è espanso a tal punto da diventare un attivismo che è andato oltre gli Stati Uniti perché poi noi parliamo di America, ma l'America è un continente, l'Africa è un continente, l'Europa è un continente, ma a seconda del momento questi continenti o porzioni di questi continenti hanno cantato e ballato su un certo brano. Sarebbe difficilissimo sceglierne alcuni, io penso che per dire, se andiamo ad un album come What's Going On che è praticamente un concept legato in qualche modo alla voce e al riscatto della comunità afroamericana, penso che come ti dicevo sia quello che a volte brani che magari non sono nati per quel motivo hanno saputo raccontare il dolore, però allo stesso tempo per l'appunto la potenza della cultura nera. E questo è un fatto che oggi a volte ci ricordano, come dire, le playlist su Spotify e su Netflix che temo, a volte semplifichino un po' troppo questa cosa, questo concetto. Assolutamente sì. C'è bisogno quindi ancora una volta e soprattutto forse per chi afroamericano non lo è di andare a studiare, a scoprire certe cose per avere coscienza di quello davanti a cui ci troviamo oggi in Italia, dove anche la multiculturalità, seppure più giovane, sta diventando un fatto importante di cui dobbiamo assolutamente tenere conto, ancora di più forse se siamo appassionati di cultura afroamericana. E nel tuo libro citi anche, ovviamente, l'importanza del blues e del gospel nell'affermare quelle che sono un po' le radici culturali e anche quanto poi sia importante il ruolo del campionamento come rivendicazione delle proprie radici. Quali sono state le caratteristiche quindi del blues e del gospel che poi magari se passeggi per Harlem ti rendi proprio conto di quanto sia fondamentale da un punto di vista sociale la chiesa in una comunità come quella. Quali sono state quindi le caratteristiche di questi due generi da questo punto di vista ovviamente? La cultura afroamericana e la musica afroamericana forse più di ogni altra è stata capace di guardare al proprio passato, rendendolo presente e proiettandolo nel futuro. Quando per esempio parliamo di blues o di gospel, quindi forme come il gospel che sono praticamente diciamo mediate dalla chiesa, il blues poi è quasi un gospel profano, lo è stato anche. Quel discorso è complesso e nel libro paradossalmente ne parlo alla fine come in un viaggio arritroso proprio con l'idea che il tempo si può polverizzare quando parliamo di musica afroamericana. diciamo che quello che è stato mediato per l'appunto dalla chiesa è diventato fondante per tanti generi musicali. Pensiamo anche appunto a rhythm and blues, pensiamo a grandi nomi come quello di Ray Charles e il fatto che il rhythm and blues degli anni 50 non abbia perso neanche il suo nome perché se parliamo di R&B parliamo di rhythm and blues. Contemporary R&B oggi è rhythm and blues, è una forma nuova di rhythm and blues e anche la cultura hip hop e il linguaggio rap attraverso il campionamento ha ripreso tante cose che sono state incise o anche semplicemente pensate un secolo fa e attraverso il campionamento le fa rivivere e le proietta nel futuro. Ecco perché polverizzare il tempo in questo senso è molto interessante ed è una cosa tipica della musica afroamericana che permette anche alle nuove generazioni che parliamoci chiaro oggi negli Stati Uniti difficilmente ascolteranno Marvin Gaye ma magari ascoltando un brano rap che campiona Marvin Gaye hanno coscienza che un passato c'era e che può diventare futuro. E anche questo è qualcosa che secondo me, come dire, forse attrae tantissimo il pubblico bianco occidentale proprio perché noi rispetto all'Oriente e anche alla cultura afroamericana abbiamo un po' perso il contatto con il nostro passato, con le radici. Assolutamente. E parlando proprio del ruolo culturale della musica è impossibile non citare il rap. Rap che parte come genere che nasce nei blocks di Southern Bronx a Sedgwick Avenue e che poi si fa portavoce da un punto di vista socioculturale di quelle che sono le condizioni di chi in quel momento viveva in una condizione sociale degradata partendo da PSK What Does It Means che probabilmente di School D.G. è il primo disco gangsta rap che è stato inciso fino ad arrivare poi a Kendrick passando per N.W.A. e Public Enemy che esprimevano una rabbia simile anche magari però con un linguaggio diverso. Quali sono state nell'ambito del rap secondo te le tappe fondamentali? Io nel libro cerco di ricollegare l'inizio del rap con l'identità black british e quella giamaicana attraverso la figura di Kulerk quindi appunto come dicevi tu uno dei primi block parties eccetera eccetera. Io credo che uno dei torti che si possa fare al rap è alle varie fasi del rap perché per l'appunto quello che è nato nel Bronx rispetto a quello della West Coast o al rap di oggi che può essere quello di Kendrick Lamar ma anche quello di Tyler The Creator che comincia ad essere per l'appunto un rap ibridato con altre forme musicali penso che ognuna di queste tappe sia fondamentale ma sia da parte nostra come dire abbiamo quasi l'obbligo morale di accettare queste tappe così per come sono state mi spiego meglio l'idea di considerare queste figure importantissime come musicisti slegati dalla loro retroterra culturale a volte da un messaggio come quello del conscious rap, il rap politico penso a Chuck D ma non solo a lui, a Common eccetera eccetera ma allo stesso tempo slegarli dalla strada in alcuni casi quindi farne un santino è altrettanto sbagliato cioè negare il fatto che alcuni di loro siano fuoriusciti da un contesto duro e violento e siano rimaste persone dure e violente quindi assolutamente come dire possono essere protagonisti di atti criminali ecco anche quello è importante perché snaturarli e farli diventare qualcosa di diverso o farli diventare una macchietta perché anche quello è l'altro rischio è altrettanto sbagliato pensiamo ad oggi al rap contemporaneo che si vive poi di tanti influssi diversi ma allo stesso tempo i fatti degli ultimi giorni con Diddy e tutto quello che sta accadendo ci mostrano che comunque qualcosa che emerge da un contesto di prevaricazione, di rabbia, di criminalità può ritornare a quello con molta facilità così come un rap che è il conscious rap diciamo prima quindi che abbia dei connotati e dei contenuti di altro tipo può portare a un altro tipo di ragionamento però in qualche modo entrambi compreso il gangster rap, il bling bling hanno ragione d'essere in quel momento è per quello che hanno detto certo e la scena jazz contemporanea si è anche molto interpolata con quella hip hop penso per esempio a To Pimp a Butterfly di Kendrick che ha chiamato intorno a sé i principali jazzisti della nuova scena DLA quindi Kamasi Washington ma anche tutto il resto del supergruppo e c'è effettivamente una nuova scena jazz emergente molto importante Kamasi ma anche la stessa Nubia Garcia che da poco ha rilasciato il suo nuovo album ed è un jazz che guarda molto anche agli altri generi si basa su una ricerca enorme qual è il tuo sguardo sulla nuova scena jazz londinese e americana? il mio sguardo è da una parte lo sguardo di un ascoltatore, di un giornalista che attraverso questo nuovo jazz riesce anche a subire un nuovo fascino mi viene da dire rispetto a linguaggi come il rap, il sole che in certi casi mi avevano anche un po' stancato invece così li trovo rinnovati dall'altra dal punto di vista di una persona che lavora all'interno di un negozio di dischi perché oltre a fare l'insegnante per l'appunto stare dietro il bancone di un negozio di dischi che mi porta anche a vedere un pubblico più giovane di me all'avvicendarsi anche di diverse generazioni visto che ce l'avevo ormai da dieci anni dietro il bancone di un negozio di dischi mi ha fatto capire quanto i ventenni di oggi non abbiano l'ossessione di dividere la musica in generi musicali in generi che abbiano distinzioni anche di tipo mi viene da dire storico-sociale cioè per loro spesso il jazz e il rap fanno parte di una stessa famiglia così come magari vengono percepiti davvero dalla comunità afroamericana molto più che da quella bianca europea pubblico bianco europeo e borghese poi è il pubblico che per la maggior parte dei casi ascolta certi dischi però se oggi un album come quello di Camasi Washington di Alfa Mist in Inghilterra o di Nubia Garcia come dicevi tu riesce a conquistare ragazzi che hanno 20 anni e persone che ne hanno 60 riesce a apparire in dei cartelloni di festival più o meno generalisti e più o meno commerciali vuol dire che ha una potenza sia dal punto di vista discografico che dal punto di vista culturale che non ha perso un briciolo rispetto a 50 anni fa il jazz nello specifico se pensiamo a Max Davis, Herbie, Hancock eccetera eccetera ha avuto sempre la grande capacità di inglobare altri linguaggi di farli propri, di rinnovarli oggi lo fa anche in un'accezione più commerciale che non è necessariamente una cosa negativa e lo fa soprattutto a cavallo dell'oceano perché un'altra cosa che mi sono accorto è che spesso i ragazzi più giovani che venivano a comprare dei dischi di alfamiste non si rendevano conto che non fosse afroamericano ma fosse inglese e quello che racconta Miss Black America è anche proprio questa percezione e che cosa cambia tra l'essere afroamericano e avere un'identità black british che è collegata quindi al colonialismo, alla Jamaica nella maggior parte dei casi non necessariamente all'Empire Windrush che è appunto questa nave che arrivò a Londra e a cui si collega, non è ovviamente l'unico momento però si collega il movimento di immigrazione di questi sudditi a quel tempo giamaicani che arrivavano a Londra e di come oggi queste cose si espliciti per dire in un disco di Sanfo di Georgia Smith che vengono percepiti come artisti solo, R&B o pop neri ma non afroamericani perché di fatto non sono afroamericani certo e parlando di Miss Black America nel corso della storia sono state tante le Miss Black America ce n'è stata forse una che brilla su tutte che è Whitney Houston che è stata la donna che ha verosimilmente riscritto il concetto di pop star al femminile probabilmente al maschile l'ha fatto Michael Jackson, un altro artista afroamericano volendo ampliare lo sguardo a questi due artisti Whitney Houston e Michael Jackson qual è stato secondo te il loro contributo nella diffusione della cultura afroamericana e anche da un punto di vista sociale? sicuramente entrambi sono riusciti a veicolare la musica afroamericana seppur in forma diversa a un pubblico praticamente enorme lo hanno fatto maneggiando la materia più insidiosa e allo stesso tempo forse quella di maggior attrazione per il grande pubblico che è il pop oggi mi viene da pensare una Beyoncé per capirci che riesce in maniera simile a utilizzare la materia pop anche per veicolare messaggi molto forti di rompenti con tutti i pro e contro però di un grande apparato un grande baraccone che ha schiacciato di fatto sia Michael Jackson che Whitney Houston ai loro tempi e al loro modo e che per dire oggi una come Beyoncé maneggia in maniera diversa probabilmente perché ha anche più coscienza di doverlo fare in prima persona sì oggi cosa ne rimane? io credo che le nuove generazioni stiano continuando ad amare ad ascoltare Michael Jackson anche perché dietro appunto con il lavoro di Quincy Jones c'è tutto un collegamento anche alla cultura hip hop appunto a quello dei campionamenti come dicevamo prima forse lo conoscono molto più di Whitney Houston allo stesso tempo però credo che Whitney Houston abbia comunque segnato un momento importante perché appunto essendo un'artista donna che si è in qualche modo anche smarcata dai cliché dell'artista donna tra gli anni 80 e 90 abbia segnato anche per le artiste afroamericane un passaggio fondamentale nella percezione di cosa potevano essere e cosa non dovevano essere e da cosa non dovevano farsi schiacciare oggi forse non potrebbe esserci più una Whitney Houston in quel modo lì che sia un bene o un male dal punto di vista umano non lo so perché poi di fatto Whitney Houston è stata una vittima di tutto questo certo che poi Beyoncé abbia un'esternazione al Quagella piuttosto che al Super Bowl in grado di far emergere degli elementi cardine della cultura afroamericana come appunto l'immaginario delle panterre nere quelle dell'afrofuturismo della fascinazione per l'Egitto del Black College della Black Greek Culture cose di cui parlo nel libro e lo possa fare gestendo tutto questo c'è anche Jay-Z quindi lì il discorso diventerebbe più complesso io ripeto lo affronto nel libro ponendomi anche tante domande rispetto a questa cosa ecco questo è importante se non ci fosse stata una Whitney Houston ci sarebbe una presa sulla pop culture bianca anche come quella che possa avere adesso Beyoncé cioè il pubblico di Beyoncé quanto è cosciente di quello che Beyoncé sta facendo sul palco al di là delle coreografie e quanto ha voglia di approfondire queste cose perché quello che dico sempre è che se forse nel momento in cui seguivi Whitney Houston se ne potevi prescindere dal cominciare a capire cosa fosse la Black Greek Culture oppure l'epopea, l'epica e la dolorosa parabola delle Pantera Nere adesso con Beyoncé teoricamente non dovresti poterlo fare più di fatto succede ancora e questo è un altro dei problemi che mi pongo nel libro arriviamo alla conclusione di questa bellissima chiacchierata parlavamo dei percorsi sonori nell'identità afroamericana se dovessimo quindi andare a tracciare il tuo percorso nell'identità afroamericana quindi i cinque dischi che ti hanno influenzato di più come ascoltatore quali sceglieresti e perché? allora dal punto di vista costrettamente biografico parlerò magari di alcuni dischi che chi mi legge magari sulle riviste così non pensa possano avermi appassionato così tanto forse ero ragazzino quando mi è capiato tra le mani una cassetta di Bob Marley, Legend, la raccolta di Bob Marley e quindi l'impatto con Reg è stato fortissimo ricordo con estremo piacere l'ascolto anche del blues soprattutto il country blues quindi quello di Robert Johnson quello di Skip James, di Blaine Willie Johnson anche lì avrò avuto 15-16 anni e quindi anche suonando la chitarra l'impatto è stato molto forte poi col passaggio al solo al funk potrei citarti qualsiasi cosa o quasi di James Brown What's Going On? di Marvin Gaye però se te dovessi dire soltanto uno ed è un artista di cui mi dilungo tanto è Miss Black America non a caso è Gil Scott Eron e il disco sarebbe Winter in America che è un disco che va al di là di ogni genere musicale che è stato inciso da un artista che ha detto tante cose bellissime tante cose importantissime che è morto facendo il contrario di quello che aveva detto prima quindi ponendoci anche lì tante domande come se le era poste lui che è stato chiamato il padre del rap ma lui ha rifiutato questo ruolo fino alla fine e che è stato capace poco prima di Muriere di uccidere un disco che c'entrava apparentemente poco col soul e che quindi viene messo di solito tra gli scaffali di musica elettronica nei negozi di dischi che però è profondamente nero e che è riascoltato oggi in realtà poi riascoltando oggi l'intera discografia di Gil Scott Eron per quanto controverse in alcuni passaggi ripeto dolorosissima rimane di grandissima attualità ed è uno di quegli autori che ci fanno fare tante domande come quelle che spero si facciano i lettori del libro Carlo, io ti ringrazio per questa bellissima chiacchierata grazie a te e questo è Miss Black America grazie a tutti